Roma ha tutte le carte in regola per ospitare nei prossimi anni diversi nuovi grandi eventi e la convinzione è emersa nel corso di un appuntamento organizzato da Manager Italia. Roma è una città che può evidentemente, una delle poche secondo me al mondo, che può ambire a ospitare qualsiasi altro grande evento. Ovviamente sulle Olimpiadi c'è stato un ripensamento che ha purtroppo interrotto una candidatura che era piuttosto lanciata positivamente sotto il coordinamento del CONI nel 2024. Penso che ci possano essere altre opportunità, per esempio il 2032 è già stata assegnata, ma nel 2036 rientra in Europa con molta probabilità dopo l'edizione di Parigi 24 che ci è stata, fatemi dire, un po' soffiata. Credo che ci sia tutto il tempo per eventualmente lavorare su un dossier e se il CONI ovviamente intenderà intraprendere questa strada e quindi portare in qualche modo questo evento anche estivo in Italia dopo l'edizione invernale invece che ci apprestiamo a fare a Milano-Cortina.